C'è, tu vuoi... cambia tutto! Tu vuoi dire buongiorno dicendo vaffanculo, e non lo sai! Ti cambia... è del tono che usi, capito? Questa... poi c'è tutto quell'altro monologo che ha... Ma quello l'abbiamo tagliato per questioni di tempo. Non che non fosse bello, eh. Allora, cambia o no? Cercatemi di non affogare quando morite ragazzi e poi venite fuori così. Casino anche scriverla a sta parte. Depositate i CIA con... C'erano alcuni della CIA che hanno guardato il copione come un francese che guarda un bidet. Un misto fa attrazione sospetto. Un misto fa attrazione sospetto. Un misto fa attrazione sospetto. E allora è gatti o no? Gatti sia quando c'è! Generalmente era giusto la mia gravità. Quasi글 non assimENCE proprio sucaggio che governava. Quasi quando havi da crapi luogo ne fila ascoltando, la mia gravità non ha già affrontare То le raffàmine alle azioni. per il decende allo lavoro che ha galvato e venite... come shall I hear through love known? from another one from another one but it's called collectin' stuff and it's under shown it's under shown Is that a gone lady? Is that a gone lady? And his hair, a grass-green dwarf And his ears, a stone White is round as a mountain snow Laided with all the sweet flower Which we will to the ground here now Go with true love showers And will he not come again? Is that a gone lady? 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 Are you or her?